Siamo con il dottore Saverio Panzica, esperto in materia di legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici e già dirigente anche dell'assessorato al turismo della regione siciliana a Taormina per il corso promosso ed organizzato da Federalberghi inerente all'avviamento e la gestione dei B&B e le strutture ricettive. Il tema è quanto mai d'attualità e quello che più di tutto interessa in particolar modo è il confine sempre più stretto tra legalità e abusivismo. Benissimo, questo incontro è stato promosso dall'associazione albergatori di Taormina, in particolare dal dottore Italo Mennella, d'accordo con il dottore Nico Torrisi di Federalberghi Sicilia. Perché lo spirito è un grido d'allarme che parte quasi da parte degli albergatori e una richiesta di legalità da parte delle forze dell'ordine. Quindi noi abbiamo cercato, come adesso, perché io adesso rappresento la DESE che è una società di formazione consulente e consulenza privata, di dare la nostra esperienza di impresa per trovare un accordo fra queste tematiche. Quindi realizzare quello che è il compito istituzionale delle forze dell'ordine, quindi alla legalità, per combattere l'abusivismo e soprattutto per garantire la tutela e i diritti dei turisti consumatori. Perché le strutture che non sono in regola mettono a rischio in modo veramente grave i turisti consumatori, rischiando anche di ledere l'immagine del turismo siciliano. Dottore Panzica, vogliamo fare chiarezza sulla situazione normativa in questo momento in Sicilia? Sì. Allora, ci sono due splendidi disegni di legge, devo dire. Uno per fare par condicio, uno presentato dall'onorevole Lupo della maggioranza e uno presentato dall'onorevole Larrocca dei Cinque Stelle. Sono due testi che io conosco, ai quali ho dato anche un mio contributo, che si potrebbero senz'altro coordinare perché affrontano delle problematiche che sono specifiche. Pensiamo che le agenzie di viaggi non sono disciplinate in Sicilia dal 1936. Non abbiamo mai recepito le normative nazionali, quindi abbiamo una normativa ferma al 36, dove non sono previste sanzioni, dove c'è un abusivismo dilagante. C'è un problema che io denuncio pubblicamente, che spesso le scuole non si affidano ad agenzie di viaggi autorizzate con la disciplina regionale, ma affidano ad associazioni che nascono così sul momento. Probabilmente ci saranno amicizie all'interno. Quindi vengono scavalcate le professionalità. Vengono scavalcate le professionalità. Io, quando nel mio compito di dirigente di pubblica amministrazione, più volte è stata fatta questa accusa, ma purtroppo i dirigenti scolastici, o perché non conoscono le norme, o non le vogliono conoscere, quindi questo è una denuncia. Allora, se noi andassimo a disciplinare questa attività con le sanzioni, perché non ci sono sanzioni? Il secondo punto riguarda le professioni turistiche. Le professioni turistiche, l'Unione Europea ha unificato la figura di accompagnatore turistico con quella di guida turistica, mentre la legge regionale addirittura dice che chi svolge l'attività di guida non può fare quella di accompagnatore. Questo evidentemente ha dei costi doppi per le imprese, sia per le agenzie di viaggio che per gli alberghi. Ma tra l'altro, in ogni caso, l'Unione Europea ha unificato e una sentenza del Tar Catania del 2014, perché è giusto citare la giurisprudenza di merito, ha inteso riconoscere un ricorso da parte di alcuni accompagnatori turistici che volevano svolgere l'attività anche di guida turistica. Questo elemento è pure contemplato nei due disegni di legge di cui parlavo, quindi andremo anche a sistemare le professioni. Un terzo elemento riguarda le strutture ricettive. Il Presidente Torrisi poco fa ha detto una cosa estremamente interessante, che il turismo in Sicilia, oltre a essere eterogeneo, è un turismo di qualità. In entrambi i disegni di legge sono previste tre semplicissimi articoli che parlano delle dimore storiche alberghiere, delle dimore storiche extra alberghiere e degli alberghi storici, che andrebbero a coprire un segmento di mercato di nicchia di altissima qualità. E questo è previsto in questi disegni di legge. In più sono previste tutta una serie di sanzioni per l'abusivismo, perché a questo punto l'abusivismo non è soltanto a carico della Guardia di Finanza, della Questura, dei Carabinieri, ma verrebbe svolto anche da parte della Regione che introiterebbe delle somme che potrebbe impegnare nell'attività turistica ufficiale. Quindi la lotta all'abusivismo potrebbe creare un ritorno economico, proprio multando chi svolge l'attività senza le autorizzazioni e la scia prevista, in questo senso. Tra le centinaia e centinaia di casi che ha affrontato nelle varie realtà locali si è trovato anche di fronte a dei casi paradossali di chi pensava di non poter avviare la propria struttura e poi il giorno dopo, con il suo intervento, è stata sbloccata e avviata. Sì, questo è successo in particolare per un ostello della gioventù che da un anno aveva tutta la documentazione pronta, ricordo è venuto in assessorato, andava alla provincia, andava allo sportello unico e gli dicevano che non poteva iniziare. Invece questo signore aveva tutta la documentazione in regola ed è partito senza problemi. Ma vi rendete conto che la semplificazione amministrativa è ormai un elemento imprescindibile per l'attività di impresa? Una cosa volevo dire a proposito anche dell'abusivismo, io oltre a fare il consulente in Sicilia, faccio il consulente anche in tutta Italia, sono consulente in un forum e arrivano le cose più strampallate. Un signore mi ha detto che sono stato in Irlanda, mi è piaciuto, adesso voglio venire in Sicilia, prendere appartamenti e proporli prendendo un compenso. Ma questa è un'attività di intermediazione, l'intermediazione immobiliare la possono fare solo le agenzie di viaggi, quella turistica, e le agenzie immobiliari. Allora il sacrosanta, io ritengo sia la lotta all'abusivismo, perché qua non ci si sta capendo più niente. La gente pensa che il turismo sia il viaggio, il divertimento, il turismo è una scienza economica, una scienza sociale, ha tanti aspetti, pretende una preparazione altissima, di alto livello. Non ci si può improvvisare nel turismo. 36 anni di esperienza, di conoscenza e di applicazione della materia le avranno certamente consentito di farsi un'idea ben precisa di quelle che sono le varie località dove ci sono casi positivi e altri un po' meno positivi. Quali sono le zone a suo avviso dove ci si distingue in positivo e quelle invece in negativo? Secondo me la località che per eccellenza è riuscita a capire il mondo del turismo è San Vito Lo Capo. Perché San Vito Lo Capo, da interviste che ho fatto io, perché conosco molto bene l'ambiente, mi dicevano che prima era una colonia di trapani. Da quando invece gli imprenditori locali, che sono tutti gestori di strutture ricettive, il sindaco ha un bellissimo albergo, ha un ottimo ristorante, e così hanno saputo coniugare l'attività di impresa turistica con l'attività politica. Cioè è andato a fare politica chi veniva dal turismo. Ed è un esempio vincente perché più di ogni altra realtà siciliana, secondo me San Vito, è riuscito a creare l'evento degli Aquiloni, il Cuscus Fest, il Tempo di Capuni, adesso fanno l'arrampicata. Cioè veramente è una località, l'epoca ha fatto una domanda sulla destagionalizzazione e c'è riuscita. L'immagine turistica viene data innanzitutto dall'aspetto ricettivo, perché quando si va in un albergo, evidentemente chi fa ormai la qualità? La fanno le recensioni, no? Quindi ben venga un bed and breakfast, un appartamento che abbia la qualità, che offra delle camere confortevoli, l'aria condizionata, quindi tutta una serie di servizi che sia in regola, soprattutto con le norme di sicurezza. Evidentemente sono da biasimare quelle strutture che vengono improvvisate, che magari non hanno... E vede il problema fondamentale delle case abusive che io affronto ormai dal 1990, facendo diversi interventi, è che moltissimi di questi non hanno neanche l'abitabilità, sono in sanatoria. Una struttura in sanatoria non può entrare assolutamente nel mondo turistico, quindi partiamo da elementi di base davvero poveri, cioè quando si parla di legalità si parla proprio di curare l'aspetto dell'attività ricettiva sin dalle fondamenta. Infatti l'ADS, la società per la quale io adesso svolgo la consulenza, ha tre aree di interventi. Noi ci occupiamo dell'aspetto giuridico-amministrativo che seguo io, quindi dall'aspetto del contratto sino all'avviamento con la scia. Poi abbiamo l'aspetto fiscale che segue il dottore Noto, che è importantissimo. Noi stiamo demarcando i limiti tra l'attività saltuaria e l'attività d'impresa. Attenzione, oggi sia chiaro una cosa che tutte le imprese che sono presenti sulle OTA, sulle online travel agency, Booking, Expedia, Airbnb, nel momento in cui sono presenti sui portali, sono imprese a tutti gli effetti. Non è più pensabile che facciano saltuarietà. Dal 2010, da quando è esploso questo fenomeno, 2010-2008 siamo insomma proprio questi ultimi anni, mentre prima si poteva pensare ad un'attività saltuaria che si svolgesse meno di 180 giorni, meno di 5.000 euro. Oggi non è perché la Guardia di Finanze, il Ministero delle Finanze, ha dato delle indicazioni chiarissime. Se tu dimostri organizzazione di impresa e quando c'è già un soggetto terzo, che sono appunto le agenzie di viaggi online, là c'è organizzazione di impresa. In conclusione, sulla lotta all'abusivismo e sulle prospettive della lotta all'abusivismo, Saverio Panzica è ottimista e se è ottimista lo è per dati di fatto o per un fatto di pura aspettativa, di puro auspicio? Allora io devo dire che ho organizzato già due corsi a Palermo e questo è il terzo che ho organizzato e devo dire che ho trovato delle persone veramente per bene, cioè chi vuole aprire un'attività di ricettività diffusa, che sia bed and breakfast, che sia casa per vacanza, che sia fitta camere, è una persona culturalmente molto elevata, perché sono molti giovani che non hanno lavoro e i genitori magari, quindi io dico non dobbiamo criminalizzare. Però facciamo in modo che queste persone si mettano in regola, perché il rispetto delle regole li pone su uno stesso piano di concorrenza leale e questo lo impone l'Unione Europea con le strutture ricettive regolarmente autorizzate. Altrimenti io sono, voglio dire, ottimista nel senso che farò il mio possibile, darò il supporto sia agli albergatori, questo è quasi un tavolo di incontro dove l'associazione albergatori di Taormina e quella regionale hanno messo a disposizione una struttura splendida come il Monte Tauro dove non hanno chiesto niente, attenzione, qui nessuno ha pagato niente. La sua domanda è molto interessante, dove lei chiede se sono ottimista. Sono ottimista perché vedo che le parti tendono ad incontrarsi. Ripeto, non dobbiamo criminalizzare queste persone. Anche perché lei si è soffermato decisamente abbastanza sull'aspetto non soltanto turistico e socio-economico, ma prettamente umano. Sì, sì, l'aspetto umano, io devo dire che molti dei clienti che io assisto, delle persone che vengono a chiedermi consulenza sono giovani, magari laureati, che non trovando lavoro hanno una piccola proprietà, una piccola casa nei centri storici, perché la location è definita, è importantissima, o in località di mare e vivono. E sono tra quei pochi che riescono a non andare via. Non dimentichiamo che tra qualche anno forse i nostri centri urbani interni si svuoteranno, forse ci sarà un eccessivo sovrappopolamento delle aree marine. E quindi lavorare sulla ricettività diffusa, sulle case per vacanza, che siano nei centri urbani interni dell'isola, secondo me dovrebbe diventare una priorità, proprio per mantenere la gente nelle proprie abitazioni, nelle nostre tradizioni rurali, culturali. Grazie a Saverio Panzica. Grazie a voi.